Io ero, sono e sarò sempre la figlia di Vanna Marchi, perché lei è un genio. Ti offendeva per prendere il meglio. Le persone ci credevano. Qualcuno l'ha definita geniale imbruglione. Aveva questa voglia di diventare celebre. Perché andare a truffare? Devo essere me stesso? Che cazzo volete da me? Grazie.